Mini recensione richiesta tramite donazione Patrio da Marco Winchester Fioretti, che mi chiede di parlare del film di produzione canadese del 2012 di Richard Bates Jr., Excision, un horror molto particolare, un thriller terribile, quasi un body horror, particolare sull'adolescenza, sul sesso, la morte, la chirurgia, un film cronembergiano in un certo senso, seppur anche vicino a certi momenti alla Carrie, certi momenti alla Thelma. La storia brevemente è questa, Pauline è una 17enne che è desiderosa di diventare un medico, assillata appunto da una madre poco presente, assolutamente non conciliante con la figlia, che ha anche una sorella, questa ragazzina, questa Pauline che si chiama Grace, che ha una fibrosi polmonare, un problema molto grave. La nostra Pauline è disturbata, assolutamente disturbata, ha dei sogni assurdi, dove per praticamente la violenza diventa in pratica orgasmo al suo risveglio, dove si trova circondata di sangue, dove nella sua testa praticamente il mondo è fatto quasi esclusivamente di idee appunto del sangue e come vita, non è un caso che quando questa riesce di andare a letto con questo Adam che c'ha pure la ragazza, riesce di andarci nel giorno che ha le mestruazioni. Poi cosa succede? Questa Pauline piano comincia a buttarla sempre più di fuori mentalmente, è recacciata da scuola fino all'inesorabile e meraviglioso tra l'altro finale. Sicuramente non è un capolavoro, però è veramente un film molto interessante, il Storio di Vetti Junior, che si iscrive il soggetto alla sceneggiatura e dirige un'attrice veramente molto brava nel ruolo di Pauline, ovvero Anna Lynn McCord, che fa una gran presente, una bellissima ragazza, ma soprattutto molto brava, riesce con lo sguardo, con i movimenti del corpo in modo enorme e riesce a passare appunto dalla follia all'ironia in un attimo, ovviamente una scoperta. Funziona perché è il ritmo giusto, un ritmo lento, che cerca di portare avanti questa idea appunto mentale di questa donna, questa ragazza, che soffre più per il mondo che la circonda in realtà. Come dicevo, quindi la scena in cui vuole perdere la virginità e va con le mestruazioni perché vuole avere il sangue per forza la prima volta e poi chiede a lui di fargli il sesso orale e lui si riempie di sangue, è una scena terrificante, così come tutta la parte finale che è quando lega il padre di lì in poi siamo veramente verso un momento anche di violenza, di gore, di quelli che lasciano il segno perché sono inseriti perfettamente in una narrazione tesa, in una narrazione che ci racconta anche il male del mondo, un'altra volta ci racconta una donna, una ragazza che ha dei grossi problemi che non viene in realtà ascoltata, non viene in realtà aiutata e che cerca nel suo modo di poter cambiare, di poter essere qualcosa di migliore, ovvero un grande chirurgo, senza contare che poi il film è molto interessante perché come tutti i body horror, tutti i film che ragionano appunto sulla mutazione della mente, della carne, del sangue, sono sempre poi una critica al mondo, alla società che la circonda, in questo caso anche alla religione, alla scuola, a tutte le istituzioni, è un film veramente duro, tecnicamente veramente ben eseguito, un indipendente di quelli che funzionano benissimo, sempre benissimo e ripeto la tensione è creata bene, l'orrore esplode quando deve esplodere, il dramma è sempre, mai verso il melò, sempre trattenuto appunto da un sistema di messa in scena che cerca quasi sempre di creare appunto un modo per non cadere nel banale, non cadere nel retorico e ci riesce per il 90% perché è un film che nonostante duri molto poco riesce in quell'ora e un quarto, 1.20 a raccontarci uno spaccato di una mente malata, sì, che però è anche malata per colpa di ciò che ha intorno, che comunque non riesce mai ad essere in linea con il pensiero di questa donna. Bellissime tutte le scenoriniche dei sogni, bellissime tutte le parti realistiche e bellissima anche l'idea di come in questo quasi film di formazione in realtà il nostro regista decida sia anche per un certo tipo di commedia, per un certo tipo di ironia, ma che però viene sempre spezzato, come ho detto, da scene violentissime, da un'idea di fondo che proprio distrugge un certo tipo di istituzioni e che in realtà ci porta a tifare per la nostra, che pur è sempre una persona, diciamo così, non voglio svelere altro, abbastanza pericolosa, fino sulla sessuofobia che viene incarnata questa volta da una ragazza che ha dei problemi psicologici ma che ripeto che sembra la più normale all'interno di un mondo che forse così normale non è. Il male di oggi comunque è il più derivativo di tutti della nostra società, è quella di non essere accettata, è quella di non sembrare normale e quindi di diventare pazza proprio perché tutti ti dicono di esserlo in un mondo che è più pazzo di te qui. Calto assoluto, per tutti quelli che chiamano l'horror, il body horror, è anche un certo tipo di film di formazione che qui diventa di deformazione sessuale e anche, diciamo così, di morte e di chirurgia. Il link è qui sotto, Excision, come ho detto, 2012, per me è un ottimo film, un calto assoluto, un horror di quelli dove non c'è il paranormale, la cosa che fa veramente paura, appunto, siamo noi. Il film che quando finisce ti lascia con l'idea appunto di aver visto qualcosa che comunque ha lasciato il segno, quindi già questo vale per me un bello chapeau.